Sotto l'albero la classicissima al palaverde tra la capolista Imoco Volley e la Unet E-Work Busto Arsizio, un match oggi in tono minore perché le Bustocche sono state nuovamente accerchiate dal Covid e non si presentano al completo, per di più con alcune atlete appena recuperate. Poco più di una formalità per la squadra di coach Santarelli, conquistare l'ennesimo 3-0 e mantenere ben salda la vetta della classifica ancora imbattuta dopo 14 partite giocate. Conagliano ancora senza Volley schiera Caravello nel ruolo di Libero, dando un turno di riposo a Mocchi de Gennaro. Coach Musso, con Busto Arsizio che è in grande emergenza, viste le molte assenze, parte con Pulter al palleggio, un'identità a Stevanovic come opposto, poi Herrera Blanco e Olivotto, Piccinini e Gray, Libero, l'esordiente Bressan. Nel primo set si vedono subito i problemi di assetto delle Lombarde che si affidano a Stevanovic in attacco nell'inusuale ruolo di opposto, ma in ricezione, con un assetto tutto nuovo, soffrono moltissimo la pressione delle atlete giallo-blu. L'unetto risale nella fase centrale del set grazie ad un paio di errori delle Pantere e a Gray, che pareggia a quota 10, ma arriva lo strappo decisivo firmato dalle battute di Paola Egonu, che spinge mettendo a disposizione di Miriam Silla palloni invitanti. 25 a 16 il finale. Simile anche il secondo parziale, con la croata Butigan in campo al posto di De Cruyff per l'imoco volley. Proprio due ace della giovane croata spaccano il punteggio che comincia a prendere la strada delle Pantere già sul 9 a 5. Entra anche l'azzurrina Lovet Omorui, che si fa notare per una grande varietà di colpi in attacco, poi anche Gickel e Gennari, ma Busto, nonostante le buone cose di Piccinini e Gray, soffre ancora specie in ricezione e l'imoco può controllare gioco e punteggio fino al 25 a 16 finale. Il terzo set inizia con una Miriam Silla, che sarà MVP dell'incontro con 13 punti, scatenata, che porta subito l'imoco sul 4 a 1. Ma Lunet e Work in questo set non ci sta. Scrollatasi di dosso un po' di ruggine, inizia un set di grande coraggio, combattendo fino all'ultima pollone. Le Pantere di casa sembrano poter controllare, nonostante il sestetto giovane schierato da coach Santarelli. Il muro tocca tanti palloni, in difesa si segnala un'ottima caravello e la battuta è sempre ficcante. Ma in questo momento sale in cattedra la sempiterna Francesca Piccinini, che tra ace, muri e attacchi vincenti riporta sotto una Unet che alza anche il ritmo della difesa, raggiungendo l'imoco sul 22 pari. Conegliano spinge con Egonu, che segnerà 22 punti alla fine, e una Butigan sempre pronta, ma Busto Arsizio riesce ad annullare ben 4 match point e fa correre brividi alle Pantere, conquistando il set point del 25 a 26 che potrebbe allungare la partita. Le bombe di Paola Egonu e un errore di Gray chiudono però la contesa sul 28 a 26 che consegna l'ennesima vittoria all'imoco volley. Sta andando molto bene, sto imparando tantissimo grazie anche all'ambiente con cui mi alleno, si imparano un sacco di cose solo guardando, quindi sono molto contenta e sono contenta anche di aver giocato oggi e di avere la possibilità in diverse occasioni di poter dare il mio contributo.